eccoci ragazzi telegiornale sono appena arrivato qua la mia casa di milano è finita a milan du de l'ange da circa mezz'oretta sono stanchissimo per la live che abbiamo fatto 5 a 2 risultato finale per fortuna abbiamo evitato una bruttissima figura e che dire c'è da salvare solamente il risultato sicuramente la prestazione non è stata buona purtroppo come sempre capita a noi ogni volta che facciamo il gol del 1 a 0 pensiamo che la partita sia finita e abbiamo veramente rischiato ragazzi di fare una figuraccia per fortuna è andata bene adesso il girone si è messo in un modo abbastanza comodo dobbiamo andare ancora ad atenea l'ultima giornata a giocarci la qualificazione però dovremmo perdere con due gol di scarto e sicuramente sarà una bolgia speriamo di non sottovalutare la partita come abbiamo fatto stasera ha addirittura segnato fabio borini ragazzi apoteosi totale questa sera non ha segnato il pipita iguain dispiace però comunque era importante il risultato questa sera sicuramente non una buona prestazione come ho già detto c'è da rivedere qualcosa in fase difensiva da rivedere anche la prova di alilovic e simic i due diciamo nuovi che sono stati inseriti oggi in formazione non hanno fatto benissimo una prova da 5 5 e mezzo per per tutti e due come di come dicevo c'è da salvare solamente risultato ragazzi per il resto poco e nulla purtroppo non riusciamo mai a mantenere questa benedetta porta inviolata ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver partecipato veramente in tanti alla live di questa sera io non ho praticamente più voce veramente grazie mille questo mille questo è anche lo speciale 700 iscritti quindi grazie mille che mi state dando una fiducia incondizionata dopo nemmeno tre mesi dall'apertura del canale io devo solamente ringraziarvi e veramente vi mando un bacione grandissimo noi ci vediamo ragazzi nella live di sabato faremo fiorentina juventus alle ore 18 poi domenica alle 12 e 30 ci sarà la live di milan parma e la sera ci sarà domenica nick con roma inter quindi mi raccomando non mancate attivate la campanella se ancora non lo avete fatto lasciate un bel pollice all'interno se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ragazzi grazie mille a tutti ciao belli